Queste indagini prendono in considerazione l'esposto dei lavoratori e prendono in considerazione l'attività già avviata da noi lo scorso anno, anche più di un anno fa, quando c'erano stati i primi problemi, i primi sentori di situazioni di anomalia. L'incriminazione è per bancarotta fraudolenta e per distrazione. La distrazione che ammonta circa 3 milioni di euro, quella rinvenuta e della quale si sta cercando di recuperare per quanto possibile sul patrimonio dei soggetti le somme distorte. L'attività è nata già lo scorso anno nel verificare quella che è stata la cessione del ramo d'azienda da parte dell'Embraco alla Ventures e verificare poi il corretto utilizzo e il rispetto del contratto della cessione del ramo d'azienda. Qui si è visto poi quello che è stato le prime distrazioni che ha portato il dottor Gianoglia la richiesta del fallimento della Ventures al Tribunale di Torino in data 17 giugno e oggi stiamo procedendo con perquisizioni e sequestri nell'ambito del patrimonio dei singoli soci e dei consulenti a coprire il danaro distorto, quello che è stato accertato. Si tratta di soci della Ventures che è la società che ha rilevato dall'Embraco il sito produttivo, il ramo d'azienda. Sono tutti italiani e c'è un israeliano, un israeliano che ha, almeno nell'ipotesi investigativa e nelle ipotesi che stiamo portando avanti, ha fornito fatture false per distrarre i soldi della società. Nel decreto è previsto il sequestro anche di auto, vetture e altri beni. I lavoratori finora sono stati regolarmente pagati, attualmente sono in cassa integrazione, per il futuro, al momento non saprei, sarà poi il Tribunale a decidere su come comportarsi se accettare o meno l'istanza di fallimento e quindi procedere in trassenza. L'attività si sta svolgendo in Piedemonte e in Lombardia, i soggetti, la società gravito nell'abrianza in Lombardia.